musica bella bellissima a tutti ragazzi e ragazze benvenuti in questo nuovo video allora ragazzi vi dico già che ho combinato un guaio e ho perso una registrazione in realtà non l'ho persa l'ho deciso di eliminarla io perchè ragazzi è successo un casino li vedete il 27 del sidiana e non sapete dove sono arrivato avevo ben due piccoli di diamante e ne ho perso uno allora ragazzi come ne ho perso quel piccoli di diamante vabbè comunque è successo un casino ragazzi ci sono dei lag frequenti sulla 0.15 ossia c'è un lag che a me si tolgono i blocchi cioè me li butto a terra in questo episodio andremo a fare il portale del nether era ovvio ragazzi nel prossimo episodio già ve lo dico andremo a fare la farm di crano e vabbè le varie farm vabbè comunque si si vedrà comunque ragazzi in off camera in off camera ecco mi sono fatto sicuramente molta carne e ragazzi guardate lì abbiamo decorato un po' la casa con questi bellissimi quadri fighissimi fighissimi quadri ecco questa è la parola che sto a allora quindi questi qui sono bellissimi quadri poi iniziate a fare qui dei giardinetti vabbè tipo una pista roba come cazzo di dito un vialetto ecco ma mi sembra che l'erba l'erba non è quella cosa dell'alberi è troppo alta quindi è meglio abbassarla o farela di due eppure proprio di uno da coprire le scale che pure viene una cosa carina vabbè comunque farò tutto off camera nel prossimo episodio vedrete insomma sicuramente i miglioramenti allora ragazzi andiamo subito sul piano di sopra che ragazzi nello scorso episodio non l'avete visto bene ma comunque questo lo feci off camera da un tempo fa e ragazzi se vi piace davvero bellissimo il piano di sopra è una cosa particolare anche con questa cosa perchè ragazzi non sapevo che con il shift si potevano mettere le cose sulla crafting table e cosa ma prima lo sapevo e ho messo questo blocco poi ho deciso di rimanerlo perchè lo stesso faceva un bel effetto ecco anche perchè mettere delle torce sulla crafting table non è che è una cosa bella ma comunque ragazzi allora andiamoci a prendere del ferro ci servirà per l'acciarino prendiamone quattro ok perfetto quattro non fanno male che scendiamo non so manco scendere dalle scale ok perfetto queste cose non le faccio nel parkour le faccio solo in sopravvivenza ecco vabbè lasciamo stare ok allora andiamoci a croft eccoli qui noi portafliamo due al seguente ecco dobbiamo alimentare appena perfetto affatto allora ragazzi avevo deciso di fare questo bel portalezzolo portalezzolo lo volevo fare da una parte andiamo volevo fare proprio qui però 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 allora facciamolo qua si qua iniziamo a mettere un blocco qui ok sinistro allora facciamo due tre quattro e di quattro e di quattro magari il quarto ok rompiti 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 ho fatto un fail ok si è rotto ce lo prendiamo e lo mettiamo il quarto qui poi facciamo uno due tre quattro e cinque questa cosa di così così di quattro uno due tre e quattro andiamo giù andiamo oh cazzo un altro fail ragazzi un altro fail molto epico una cosa troppo bella cioè solo per fare un portale del nether sto combinando davvero due allora questo questo e questo perfetto acciarino e voilà ragazzi abbiamo il nostro portalone finalmente ragazzi lo ottenevo lo ottenevo da anni anni e anni perfetto nel prossimo episodio andremo a off camera farò 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 quella cosa dietro al nether cioè metterò il bloc di quattro dietro al nether condividete condividete la nostra pagina facebook e ci sono tutti i link della crew che troverete qui nei commenti le sponsorizzazioni arriveranno non vi preoccupate quindi non vi commentate quando arrivano le sponsorizzazioni sponsorizzerò tutti ragazzi ma comunque ragazzi ve l'avevo detto che devo portare ovviamente anche le mie serie tipo minecraft dopo minecraft uscirà crash royale poi le sponsorizzazioni un po' di nuovo minecraft un po' di nuovo crash royale un po' di... vabbè comunque le solite cose poi vabbè nuove serie io spero che questo video vi sia piaciuto vabbè già ve l'ho detto raggiungiamo i... 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 i 30 like da raggiungo assolutamente tutto